Saponara in campo forse già domani a Napoli dove le Aquile alla ricerca di punti salvezza sfideranno al Diego Armando Maradona l'undici di Gennaro Gattuso, reduce dal poker rifilato al Cagliari a domicilio. Riccardo Saponara, centrocampista classe 91, arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Empoli, Milan, Genoa e Sampdoria e sarà quindi già a disposizione di Mister Italiano per la gara di domani alle 18. Abbiamo recuperato qualche ragazzo, in più si aggrega Saponara che pensiamo possa darci quella personalità, quella qualità, quell'imprevedibilità che a volte a noi sta mancando e speriamo che lui ce la dia. È un ragazzo che è molto motivato, la prima impressione è stata molto positiva, quindi si aggrega al gruppo, aspettiamo che cresca di condizione e poi siamo convinti che possa darci una grossa mano. Per domani la partita si sa è una partita difficile contro una big del campionato preparata in un solo allenamento, quindi le difficoltà ci saranno, però in questo momento abbiamo bisogno di andare a battagliare in qualsiasi campo e lo faremo anche domani. Proprio sulle spalle del centrocampista che lo Spezia potrebbe riscattare alla cifra di 2 milioni di euro, le Aquile si aggrappano per ritrovare le certezze perdute attraverso una strada che le conduca alla salvezza. Per Saponara è pronto un triennale da circa un milione a stagione nel caso l'obiettivo venisse raggiunto. Ma per il momento, nonostante il buon avvio di campionato, la squadra naviga in terz'ultima posizione, quindi fermo restando il bel gioco espresso è finita l'epoca dei complimenti. Quel che serve adesso sono soltanto i punti per una classifica che comincia a farsi pericolosa. Le prestazioni contro qualsiasi squadra sono di valore, nessuno ci mette sotto, nessuno praticamente ci prende a pallonate come qualcuno poteva pensare, quindi questo è un rammarico enorme. Cercheremo già da domani di cercare di cambiare questo trend, abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di una grande spinta da questo punto di vista qua e speriamo di tornare da Napoli con qualche punto in più in classifica. Grazie.